Far cambiare idea al governo nel passaggio dal Senato alla Camera, in ballo c'è l'ormai famosa vicenda della restituzione delle tasse dopo la bocciatura del noto emendamento. Il PD fa squadra e in conferenza stampa annuncia il proseguimento della battaglia. La convocazione di un consiglio apposito, ha detto il segretario comunale Albano, era una battaglia per il territorio. Noi non facciamo sciacallaggio politico, come qualcuno ha detto, anzi siamo sempre stati a fianco del territorio e dei cittadini. Sì, al Senato la seduta si è conclusa con il parere negativo del governo sull'emendamento che è stato bocciato. Ricordo che quell'emendamento era stato discusso al tavolo istituzionale promosso da Regione Comune e quindi era stato concordato dalla gran parte delle forze politiche e da tutte le categorie. Ora ci riproviamo alla Camera, stiamo lavorando sempre a livello anche istituzionale per avere l'incontro con il governo. Se ne sta occupando il collega Deramo, ma rimane ovviamente la battaglia del Partito Democratico che vuole che questo problema venga risolto e venga risolto in questo decreto. L'emendamento non ha problemi, l'emendamento interviene sulla legislazione nazionale spostando lo standard del de minimis da 200.000 euro a 500.000 euro. La trattativa con l'Europa va fatta immediatamente in successione sul tema dell'aiuto di Stato, quindi il percorso è molto chiaro. Ora il governo deve cambiare opinione e faremo di tutto per fargliela cambiare. Una vicenda che va inserita in questo decreto necessariamente, ma secondo la deputata Pezzopane la verità è che il governo non ha ad oggi una soluzione, non ha copertura finanziaria. Deramo della Lega sarà capo della delegazione che incontrerà il governo. È importante però, ha detto la Pezzopane, lavorare insieme, al di là del fatto se farò parte della delegazione o meno. Potrebbe essere questo il tema perché naturalmente le risorse che lo Stato riprende per volontà dell'Unione Europea vengono messe in entrata. Nel momento in cui si decide che quelle risorse non debbano essere più riprese dagli imprenditori perché sarebbe una ripresa ingiusta, in quanto c'è una legge dello Stato che prevede il 40% e non il 100%, è chiaro che non c'è più quell'entrata. Però se il tema è questo lo si dica e ci si lavori perché sono risorse che possono essere facilmente trovate. Le stanno trovando per tutto e non le trovano per questo tema, per questa ingiustizia grave che va sanata. Mi sembra assurdo.